benvenuti amici questa è la seconda puntata della jackson one backstage siamo arrivati ho deciso di farlo oggi perché questa sera saremo all'union rock a chioggia siamo arrivati un festival incredibile con un palco pazzesco che tra un po vi mostreremo siamo arrivati che oggi stiamo arrivando siamo arrivati vecchio ma lasciate che vi presenti la squadra di oggi a partire dalla band mio nome ero e mio cognome paradini daniele soddo ricky roma i ballerini bettineschi claudio naima sella ribani samuel chiamo davide bettoschi ed i tecnici marco piva marchiolo enrico fabio moreno andrea andrea sapete qual è la più grande fortuna per un musicista è quella di poter girare il mondo suonando e vedendo spettacoli magari come questo cari amici dai jackson one momenti di vera tensione questo è il momento più emozionato del concerto il degno finale del concerto di jackson one stiamo lasciando questa splendida cittadina di chioggia dopo un concerto fantastico ragazzi non vi dico cosa faremo adesso io e ricky dei ruti al gusto di sarda in saorra e con questa visuale qua vi salutiamo amici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti